5.000 like se volete urgentemente il prossimo video direttamente al lago benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio un nuovo video dove parliamo ancora dei regali del mio compleanno questa volta è l'ultimo ultimo regalo del mio compleanno e oggi parleremo di un regalo che mi ha organizzato mio padre e però è stato poi intersefecato come si dice è stato vabbè con l'aggiunta di tutti gli amici moglie parenti eccetera eccetera per cui un grazie di cuore a tutti quanti e un grazie enorme a mio padre che ha organizzato tutto ciò senza nemmeno farmi accorgere e mi ha fatto un regalo ragazzi che non è un regalo bello costoso quello che volete è un regalo che non nemmeno mi serviva è un regalo e ora vi spiego prima di farlo vedere e per cui ragazzi rimanete sintonizzati in questo video perché il regalo è una bomba cioè no 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 non è che il regalo è una bomba che fa una bomba è un regalo fighissimo e non ve lo aspettereste nemmeno voi se vi ricordate ultimamente feci un video con mio padre che rischia di negare eccetera eccetera e avevamo una barca mezza rotta con i remi con un reme mezzo rotto vi metto il link da qualche parte c'è una scheda se non l'avete visto però poi parlando io conosco anche due ragazzi che sono siluristi tra virgolette che vanno a pescare con la barca e i siluri eccetera eccetera e ogni tanto li vediamo scendere giù in cava con un motore strano elettrico che non fa rumori in acqua loro prendono me la barchetta e vanno e ho detto cacchio sarebbe figo avere uno di quei motori e volevo fare una colletta tra tutti noi amici pescatori che andiamo di solito a pescare fare una colletta prendere quel motore per andare a calare le canne eccetera eccetera magari questo gergo non lo conoscete ve lo spiegherò in futuro sarebbe ne poche parole noi la riva peschiamo con la canna ma l'escala andremmo a calare con la barca lontano dalla riva dove laddove il lancio non arriva dunque mio papà ha ascoltato perché mio papà ha ascoltato con gli occhi e ha visto con l'audito tutto l'ambaradam ha detto cavolo organizziamo questa cosa facciamo una colletta e compriamo a look uno di questi motori elettrici ragazzi non poteva farmi un regalo migliore perché finalmente posso usare usare il mio giubbotto che mi ha regalato bangod e posso finalmente usare il mio giubbotto salvataggio nella vostra seconda volta che vi indosso nei video e ora andremo a vedere questo regalo per cui un unboxing molto 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 speciale eccoci qua allora come prima cosa ragazzi vi mostro che scoschi che mio papà giustamente poveretto ha sbagliato a comprare cioè mi serve comunque però pensavo fosse altro pensavo fosse il caricabatterie della batteria nel frattempo lo vi faccio vedere la batteria non la sposto perché prete pesa 8 quintali e mezzo meno 70 caricole abbastanza pesa abbastanza è una 77 watt ampere scusatemi 77 ampere per cui la batteria abbastanza 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 putenda putenda è molto quella cosa lì più o meno mio padre pensava che questo fosse il caricabatterie per la batteria ragazzi come batteria mi hanno comprato questa perché per questo tipo di motore servono queste batterie non potevo usare una batteria da motorino da auto da tir se no me ne servivano 80 di quelle batterie per cui sarei una abbastanza potente potrei usare per esempio la batteria da tir ma vale alzare la batteria da tir e portartela in barca affondare la barca con tutta la batteria e poi ci vuole il tir senza batteria che ti tiri fuori la barca e come fa il tir senza la batteria a trainarti fuori la barca eccolo qua mi ha comprato questo kit che poi è un bellissimo kit oltretutto è un bellissimo kit allora qualche parola abbiamo tutti attacchi attacchini c'è la cosa dell'auto la batteria dell'auto ora vi spiego perché c'è questo kit abbiamo una cosa usb abbiamo una famiglia di tutti gli attacchi credo da pc portatile credo e non lo so dico credo non lo so e poi il caricabatterie da corrente e barabam qua abbiamo il vero e proprio secondo mio padre carica batterie di quella batteria mio padre ha sbagliato perché questo qua ragazzi non è un caricabatterie ma è un avviatore di batteria d'auto cosa vuol dire questo qua ha una capienza ha una capienza di corrente esattamente fino a 12 mila milliampere no fino a 12 ampere 12 mila ampere qui si accende bambete qua ci dice il livello della carica della batteria che 38 per cento e cinque volte in uscita 2,1 ampere ok c'è la bussola fighissima la bussola e poi abbiamo due attacchi usb l'entrata per caricarlo è un ennesimo uscita un output che credo per collegare il computer eccetera e poi qua abbiamo invece barababam qui esattamente qua yes abbiamo l'attacco questo qua per collegare poi la con la batteria della macchina e dare l'impulso per mettere in moto l'automobile e poi basta perché non ce la fa con la corrente mio padre pensava che questo fosse il caricabatterie di questa batteria invece doveva comprarlo a parte poi tenendo cliccato un bel po facciamo anche una bella bella torcia e ragazzi è una bella torcia che arriva fino a molto molto lontano per cui ormai attengo comunque sia è un bank è un booster per l'esattezza che lo tengo che è sempre sempre molto utile e comodo soprattutto quando ora pescare posso collegare fino a due usb posso collegare il pc portatile ho la torcia o tutto metti caso rimanga piedi con la macchina o anche quella o meglio ancora metti caso rimango a piedi sono in barca con questo motore e la batteria è scarica rimango a piedi in mezzo più che a piedi rimango acquato in mezzo l'acqua io con questa cosa qua riuscirei per lo meno arrivare alla riva per cui un è un mezzo in più di salvataggio ma ora siamo pronti per vedere il vero è proprio regalo cioè regalo è proprio diciamo la lampolla che rimane all'interno della bobina che va avvitata alla madola e ciance da parte le badantoli ragazzi eccolo qua il emery ecco che cacchio ve lo dico che c'ho qua il manuale di lo stratacchio electric trolling motor 18 libri manual ok la mano non devo dirlo comunque ragazzi è un 18 libri non è un non è un motore non è un motoscafo per l'esattezza però un 18 libri comunque sia la barca fino a 500 kg riesce a spostarla e non si scarica addirittura nemmeno subito per cui riuscirei a farmi qualche giretto nel lago pescare a spinning andare a calare le canne fare pasturare fare ciò che voglio e vi mostrerò tutto quello che farò con la barca ragazzi eccolo qua ora ve lo faccio vedere in tutta la sua bellezza abbiamo anche un paio di eliche di ricambio inutile che ve le mostro eccolo qua ragazzi in tutta la sua splendore bellezza quanto è bello abbiamo marcia avanti e retromarcia per cui va avanti indietro e abbiamo due velocità due marce la 1 e la 2 ok avanti indietro bellissimo off poi abbiamo panababam stium qua qua eh amico qua taratatam abbiamo la manopola che esce questa che serve per guidare fate finta che questa è la barca questo serve per virare o girare come si dice ok e qua poi abbiamo tutta la la pulsantiera abbiamo avanti indietro e prima e seconda velocità qua abbiamo l'aggancio che andrà agganciato la barca questo qui andrà alla batteria che se la batteria non va e poi sotto abbiamo la signora elica ora io vi mostro questo ambaradam acceso ragazzi lo mostro acceso logicamente non in acqua e non acceso cioè acceso non in acqua può dare la sensazione di dire cacchio ma è un giocattolo che fa quella cosa a muovere una barca di 500 kg e invece ragazzi ve lo mostrerò anche in acqua in un altro video andiamo a scoperchiare gli scoperchi e andiamo a collegare gli ambaradam per cui nero negativo rosso positivo perché è un rosso positivo senza macchia l'amore ma è soltanto una cosa per te allora ragazzi abbiamo collegato la batteria che dovrebbe essere già carica e ora proviamo ad accendere e far muovere la blambaradam accendiamo bambete ragazzi sentite com'è silenzioso è un ventilatore tra virgolette prima velocità seconda velocità non so se si sente nel microfono piano veloce e poi guardate il senso della 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 elica vedete gira in un modo e gira nell'altro gira in un modo e gira nell'altro questa è avanti e indietro c'è la retromarcia lo scolleghiamo perché è molto pericoloso questo qua più che la elica è una fettatrice di mani umane e ragazzi bisogna bisogna notare l'evoluzione del mio canale siamo passati dalla barchetta l'altro giorno al motor della barca vera c'è ma dove stiamo arrivando tra un po' diventerò il guidatore di di yogurt yogurt che però non è un yogurt vabbè quelle cose lì il titan il titanic la prossima volta lo guido io il problema ragazzi che se io dovesse guidare una barca o un coso per andare lontano nel mare il mio problema è che lo sapete che bisogna fare molti nodi eh io chi cazzo li sa fare i nodi c'è tanto che fare il nodo delle scarpe il nodo delle scarpe mo pure i nodi in acqua devo fare come cacchio si fa il nodo all'acqua mo detto questo ragazzi e pure le cagate posso spogliarmi perché sto leggermente sudando e spero questo video vi sia piaciuto ragazzi come detto all'inizio cinque mila like sotto questo video e io andrò in cava o all'agora qualche altra parte con mio padre o gianni o qualcun altro e vi mostro vi mostro ve la mostro proprio veramente il motore è collegato alla barca è funzionante in acqua un bacione e un abbraccio da Luke e Twitter e ciao a tutti grazie a tutti